Oltre 35 milioni di italiani utilizza solo il 20% del proprio guardaroba. A giacere inutilizzati per anni, sono capi di abbigliamento spesso in perfette condizioni. Perché allora non dare a questi capi di abbigliamento una destinazione diversa dal fondo dei nostri cassetti? Il modello RE3 è un sistema di economia circolare brevettato, ideato per ridurre l'impatto ambientale dei capi usati. Quando un tuo cliente acquista un capo del tuo brand o all'interno del tuo store, hai la possibilità di raccogliere un vecchio indumento che il tuo cliente non indossa più, offrendo un green bonus a tua scelta. Assieme ai nostri partner, cooperativi e no profit, rivenderemo i vecchi indumenti, te li restituiremo sanificati per essere rivenduti come second hand o verranno donati a persone bisognose e li riutilizzeranno. Se non sono in condizioni ottimali, li rigenereremo per produrre nuovi oggetti. Dal 1 gennaio 2022 è in vigore l'obbligo di raccogliere in modo differenziato i rifiuti tessili, come previsto dal Decreto Legislativo numero 116 2020. L'Italia anticipa il recepimento della Direttiva UE sul differenziare questo tipo di rifiuti a partire dal 2025, ma di fatto non siamo pronti. Il settore è responsabile del 10% delle emissioni mondiali di gas a effetto serra, ma secondo il rapporto sui rifiuti urbani nel 2020, sono state differenziate 143.000 tonnellate di rifiuti tessili urbani, meno dell'1% del totale della raccolta differenziata. Grazie al modello RE3 potrai ridurre l'impatto ambientale del tuo business tramite una gestione efficiente del rifiuto tessile derivante dalla tua attività.